E' stato salvato grazie ai colleghi che gli hanno fatto il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore. Grave ma vivo un operaio del comune di Moscufo di 58 anni che aveva accusato un malore. La misericordia di Pescara insiste sull'importanza del primo soccorso e anche sull'utilizzo dello stesso defibrillatore. Il vice governatore della misericordia di Pescara Stefano Melchiorre. Noi il corso l'abbiamo iniziato la settimana scorsa e il primo soccorso è una cosa importante forse magari bisogna sentirselo anche dentro, ci vuole tanto sanque freddo per accedere a quella persona che magari in quel momento ha bisogno. Noi mettiamo diversi argomenti, partiamo dal massaggio cardiaco fino alla semplice medicazione, come ho detto anche l'altra volta anche gli aspetti legali sono importanti ma tutto sta nell'essere preparato soprattutto ad agire con tanto sanque freddo. Un corso che dura quattro mesi, già avete iniziato però è ancora possibile iscriversi, vero? Fino a quando? Sì, diamo tempo fino alla quarta lezione, quindi fino a giovedì prossimo, quindi fino alla prossima settimana il corso è ancora aperto. Rilascerete un attestato e c'è chi potrà operare con voi? Certo, a fine corso ci sono tre esami da sostenere, verrete iscritte all'albero dei soccorritori, inizierei da fare i servizi con noi. Allora oggi diverse società scientifiche ti danno l'abilitazione appunto ad usare il defibrillatore, sarebbe buona regola dato che oggi i defibrillatori li possiamo trovare dappertutto, quindi con poche manovre si riesce anche a salvare la vita di qualche persona che in quel momento è in difficoltà. Come è accaduto a questo dipendente di Moscufo che deve dire grazie al sangue freddo e anche alla sua alerzia dei suoi colleghi? Esatto, fortunatamente lì in Vigilurbani c'era un defibrillatore, un seme automatico e appunto il sangue freddo di quelle persone ha permesso a quella persona, oggi sì è vero che adesso stai in utica, sarà in rianimazione, però c'è ancora tanta speranza che quella persona ce la possa fare. Intanto sta portando risultato l'iniziativa della salute a buon mercato, l'ambulanza della misericordia di Pescara che al mercato del sabato a Monte Silvano staziona per esami di routine, misurazione della pressione e della glicemia o per fornire informazioni.